Ciao ragazze, volevo innanzitutto salutarvi in realtà già avevo fatto un video a Pasqua per mandarvi gli auguri di Pasqua però non sono riuscita a caricare il video e quindi vi faccio questo video per salutarvi e vi aggrego quel video dove taglio la parte degli auguri di Pasqua vi faccio vedere nel frattempo che carico il video faccio merendina si tratta praticamente di una ricetta che ho copiato da Maura quella del gelato vegano con la banana e io ho aggiunto banana e fragola che erano delle fragole freste e poi ho messo trembandorle sopra questa ricetta che ho trovato sia nella rivista di ricette per di peso di questo numero del mese di aprile e ho aggiunto appunto come quello di Maura del latte di soia al cioccolato che ho preso all'Eurospin e invece lì non c'è il latte comunque non è un gran danno e niente è buonissimo perché già l'ho assaggiato mentre che lo faccio e niente vi saluto e vi aggrego il video che ho fatto con un piccolo haul mangereccio ciao ragazzi questo video è anche per farvi vedere un po' di spese che ho fatto ultimamente che ho fatto in questi giorni e purtroppo non sono delle schifezze le mie haul mangerecci strani perché però non posso mangiare queste cose perché mi fanno un pochetto male quindi mi spiace per Mauro però sono delle cose un po' delle novità e alcune altre no allora vediamo un po' in realtà si tratta di un haul misto e non tutto mangereccio partiamo con delle compere che ho fatto alla copp e allora in realtà c'era andata per prendere il pane di cambot quello lì come il pane bianco però non sono riuscita a trovarlo purtroppo perché è veramente buonissimo e lo straconsiglio a tutti questo qui che è la Vivi Verde Copp però non c'era quindi vabbè ho preso anche altre cose allora ho preso questo musli croccante che mi è piaciuta tantissimo la foto perché ci sono dei pezzetti di banana dei pezzetti di nocciola dei pezzetti di frutta e poi ci sono i fiocchi i fiocchi di avena se non mi sbaglio sì e poi l'ho trovato molto interessante molto buono secondo me costa 2,39 euro poi un'altra cosa che ho preso che sento parlare molto molto da se non mi sbaglio da Mastercora ho preso la Stevia che ha 0 calorie io l'ho trovata solo di questa marca si tratta della marchia misura che qui da me pure dentro tantissime cose misura questo qui per esempio la Stevia non c'è è in bustine 40 bustine comunque c'era lo sconto mi è sembrato buono era 2,74 euro anziché credo 4 euro quindi vabbè lo provo sicuramente 0 calorie qui sta e poi cerco anche di informarmi sulla Stevia perché in realtà non è che ne sappia molto poi ho preso questi succhi di frutta sempre della Vivere de Coppe e quelli alla pera ho preso questi qui nelle piccole dimensioni perché appunto così posso portarli via come è qui ho preso sempre la Coppe e basta qui ho preso i semi di sesamo perché mi piacciono molto soprattutto per fare alcune ricettine sono veramente buone e gustose e questi sono costati credo 1,65 euro il marchio non so questo qua i semi del i semi del benessere comunque ho preso sempre la Coppe poi vi faccio vedere un'altra compresa che ho fatto da settimana ma solamente perché non sconto in realtà ho preso questo shower gel perché appunto mi era finito il bagno doccia mi è quasi finito il bagno doccia della Bionova che devo dire sì mi è piaciuto però non non ha attirato la mia attenzione in particolar modo io vorrei qualcosa che abbia un buonissimo odore comunque per ora ho preso questo sperando che magari l'inci non faccia troppo troppo schifo perché devo dire la verità non l'ho letto e speriamo che non faccia troppo schifo penso che sia meglio comunque quello dei supermercati quelli normali e il prezzo è stato di 7 euro e 50 mi pare credo che nel sconto perché diceva che costasse 10 euro normalmente e poi vabbè mi hanno dato dei campioncini questi qua di fondotinto che probabilmente non lo utilizzerò mai comunque poi invece sono andata al cuore bio il cuore bio che ripeto è il cuore bio di giardini un momentino giro la busta così non spreco tempo il cuore bio di giardini che consiglia a tutti soprattutto ai siciliani ovviamente di andarci perché è veramente carinissimo e poi c'è di tutto ci sono anche i prodotti veleda e poi comunque se vuoi qualcosa te li ordinano anche te li portano la settimana dopo ci sono i prodotti veleda i prodotti argital beh comunque si sta ingrandendo parecchio i prodotti tilavera tanti prodottini devo dire anche i prodottini dell'Aleppo e quindi è molto carino e mi diceva la negoziante che faranno anche probabilmente un negozio online dove potranno comprare tutti ora non ho ben capito com'era la situazione o se potranno comprare quelli delle vicinanze comunque mi farà sapere a breve e lo trovo un'ottima iniziativa ora svuoto la busta e vi faccio vedere un attimo cosa ho preso allora siccome la coppia non ho trovato praticamente il pane di camut allora l'ho preso qui il pane bauletto camut della Ecor 3,45 euro poi ho preso che ormai è diventato il mio preferito il che consiglio a tutti tofu, mandorle e sesamo che è buonissimo io l'ho fatto con i gnocchi e con le zucchine come in una ricetta consigliata da mamma mia non mi ricordo da Donatella del mister rettore però quello della cucina in the kitchen non so come si intitoli il programma e sì il programma il canale ed è buonissimo veramente questo è diventato il mio preferito tant'è che mi ha preso i due i prezzi non li ricordo comunque questi qua sono 4 euro poi ho preso il lievito madre questo qua dell'antico molino rosso perché quello che avevo preso precedentemente l'ho utilizzato tutto mi sono fatte i panini di camut i riseri ho fatto i panini integrali con la farina integrale farina di farro insieme devo dire che mi piacciono tanto fatti così con il lievito madre mi piacerebbe appunto fare in realtà il lievito madre io stessa spero appunto di riuscirci però devo dire che è buono non si sente il lievito di birra assolutamente lo straconsiglio costa 2,96 euro però in realtà è nel sconto fino ad oggi 2,50 euro poi ho preso questo qua la bio pizza al camut senza lievito di birra e praticamente la particolarità che lievita mentre cuoce ci sono le istruzioni metti metti l'acqua e tutto praticamente come una pizza istantanea e mi è piaciuta molto l'idea perché così quando si ha voglia di pizza anziché mettermi ad impassare eccetera e la faccio in 3 secondi poi ho preso questo qui il riso semi integrale lungorriba e che è buonissima a me piace tantissimo e lo consumo veramente parecchio infatti ho preso un altro patetto lì come potete vedere è spostato 3 euro e poi ho preso infine il sale integrale sale marino di trapano integrale che è costato sugli 80 centesimi credo e questo lo uso anche stesso cioè come il sale normale quindi dura una vita e ho questo poi ho preso tre cosine un po' particolari che ora vi mostro prima di farvi vedere gli altri volevo farvi vedere quali sono gli ingredienti di questa miscela per pizza sono aspettate semola rimacinata di grano corasan amido di gamut amido di mais e gli agenti limitanti ci sono il cremo tartaro e il bicarbonato di sodio questi sono gli ingredienti e poi c'è scritto tra parenti con la storia su ingredienti biologici e poi qui ci sono le istruzioni a me piace camusto però l'altra volta ho preso quella di grano normale e grano tenero invece questa volta ho pensato di prendere questa di caput perché a me il camusto piace veramente tanto allora poi un'altra cosa che ho preso è stato lo shampoo questo qui alla rosa di cui vi parlerò della lavera in realtà in questo negozietto devo dire la verità costa qualcosa in più però alla fine visto che dovevo prendere solo questo non pagavo le spese di sfidizione quindi comunque mi conviene prenderlo nel negozietto poi ho preso poi ho preso questo qui l'olio alla l'olio cellulita alla betulla di veleda perché questo prodotto ho letto diverse review sia nei blog poi ne ho sentito parlare anche da Umaema ma da Umaema sì sì e poi da quando ne ho parlato da Umaema ho letto tantissimi blog e mi ha incuriosito molto tonifiche tessuti le rivela epidermida e c'è scritto che per la cellulita cerco magari di leggere gli ingredienti se ci fosse in italiano no ok in italiano non li trovo sì sono qui però ecco sì per c'è l'olio di ho ci sarà l'olio di betulla probabilmente credo l'olio d'albicocca sì l'olio di betulla estratto eccetera e gli oli essenziali ne ho sentito parlare molto bene quindi volevo provarlo costò parecchio perché è costato 20 euro devo dire è una bella cifretta però vedremo e poi mi ha incuriosito lì perché anche un'erbolisteria dove prendo queste cose della cuorobio e anche un'erbolisteria mi ha incuriosito lì una tisana c'è scritto tisana dimagrante quindi ne ho preso 100 grammi mi diceva la signora che ci sono parecchie erbe il focus la betulla ma tantissimi altri che io praticamente non ricordo e loro la chiamano tisana di 4 però vabbè da prendere la mattina e la sera si tratta lì ci ha scritto tisana dimagrante ma probabilmente sarà una delle solite tridane e drenanti e così via gli ingredienti erano betulla focus panamina e altre cose ma non me le ricordo e niente praticamente siccome questo qui ho letto che va abbinato con il decollotto di betulla che però costava parecchio 13 euro quindi ho pensato di abbinarlo in realtà a una tisana così dove invece in realtà 100 grammi ne costavano solamente 5 euro e quindi ho pensato vabbè dai risparmi questi 8 euro e prendo una tisana così e niente ragazzi questo era il mio video è un video con la scusa anche di augurarvi buona Pasqua e vi mando un bacio a tutti e a tutte ciao